Awe, 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 Amici Anand di, Awe, Awe, Amici Anand di, Lo Zoo di Football, ragazzi, buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio a tutti, agli iscritti e non dalla mia pagina YouTube e vi invito ad iscritti al gruppo Facebook Lo Zoo di Football, ragazzi, è stata una mia idea più o meno, fallo un po' troppo ignorante, ignoranza pura proprio, pura proprio, pura proprio, ignoranza pura proprio, buonami, 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 buonami. Buonami, 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 buonami Sta cacca, è una cacata, è una ciofecata, ragazzi, è una ciofecata. Popka, popka. Ma guarda quello! Madonna mia, si fermano. Ma guarda quello, popka, madonna. Popka. Bonami, vaffa mo'. Come sempre. Sempre un buon Konami, vaffa mo'. Come sempre. Sempre un buon Konami, vaffa mo'. Scritto, madonna mi Cristo, con un buon Konami, vaffa mo'. Mamma mia, che schifo. Awe, awe, amici anandi, lo zoo di football. Awe, uè la schecchiaat, mo' la corna Katnit, vaffa mo' la sciamane. Andiamo? Allor, tu vai a far in culo? Tu, mettiamo, Luca Kone qua. allora vediamo tu qui, tu, cc dai possiamo andare così a giocare poi si mettiamo più su, poi ho difesa a tre, no, tu, p, più qua, e qua mettiamo Timo Verne, no, affa, mettiamo l'Uda, così, ok, andiamo dai allora ragazzi, vi devo fare un annuncio, mi sa che il signor Galbani, come cazzo lo chiama Olioman, cioè io, ha annunciato che a dicembre non esce una piata minchia, cioè lo 0.9.2 non esce neanche a dicembre quindi ragazzi, io non so più cosa pensare vabbè, comunque, volevo salutare, perché me l'ha chiesto, è come quando io chiedo a tutti, se volete essere salutati, me lo dovete chiedere saluto Maverick, Boffa, che mi ha chiesto di salutare, comunque, saluto tutti quanti gli ultimi, Davide Vigiani, Dylan Blasi e poi vado a leggere l'azione, ragazzi, mi riesco a giocare detto questo, andiamo avanti, questa è la terza competizione, bisogna fare almeno sette gol, in cioè, dobbiamo fare minimo sette gol in ragazzi, in cinque partite, giusto, non mi ricordo vediamo quanto riusciamo a fare, vediamo se in due partite riusciamo a fare sette gol molto è molto, molto forse ne prendiamo sette di gol, perché questo è il primo ah no ah ragazzi, un'altra notizia volevo darvi ho eliminato ufficialmente peso il 2021, ci ho provato in questi giorni, ragazzi ma non riesco più a giocarci, in che senso? abituato adesso a giocare a questa modalità, a questa velocità, con questi tasti raga, mi è proprio impossibile, prendo ammazzati da tutti quelli che ci stanno giocando ancora no, che ho fatto? vedete? questo è il discorso che volevo dire prima, vedete? schiaccio i tasti a capocchia e sbaglio tutto vabbè quindi ho cancellato, l'ho eliminato proprio dalla mia play, ragazzi come ogni anno io cancello gli ultimi pass precedenti e l'ho fatto anche con questo eeeh mal in cuore l'ho dovuto fare tanto, ragazzi non è cazzo più il mio di giocare prendevo ammazzati da chiunque, quindi non porterò più video di peso 2021 si va avanti con questa cacata, fino a quando non mi rompo i coglioni pure di giocare a questa cacata perché visto che Konami continua a non voler mettere un cazzo di aggiornamenti o altro e io vado avanti così dove cazzo? raga ma non si può correre più adesso come una volta e tira una bomba saluto l'eligno, saluto il dottor Antonino, saluto il buon Stefano Ferrari DJ e Ken 1988 che ritrovate nella mia home significa che sono pagine YouTube che vi consiglio di seguire ragazzi molto preparati soprattutto Ken sulle connessioni ragazzi, seguitelo, iscrivetevi e dite che da parte mia mortacci loro facciamo crescere anche loro come abbiamo fatto crescere i lati piccoli YouTuber lo sapete a chi voglio bene io pubblicizzo di tutto e di più dai una zero mannaggia la muerta da tanti saluto Marco, saluto Stefano Carparelli la canzone scritta, composta tutta da lui ragazzi tutto su, tutta farina del suo sacco ragazzi Stefano Carparelli questo è il mio gruppo ragazzi iscrivetevi al gruppo lo zoo di football ragazzi Facebook lo zoo di football vi aspetto a braccia aperte perché non venite vi aspetto a braccia aperte salazzo giammo stesso po' cazzo ecco questi sono i nuovi passari ragazzi vedete arrivano in fondo per fare il cross ok questo fa l'invio dopo il ciondolama opportunità per il contropiede bell'anticipo pericolo sventato vai Saul attenzione siamo in zona pericolosa oh tira a gire dai una z oh ah fa mocca chi te è morto big star star spiega prima goal dai voi dovete essere scappare due gol due partite due gol qui ragazzi massimo concentrazione su sto gioco mi sto allenando la manetta per essere per diventare un vero pro over 40 anzi over 50 quasi scherzo quando uscirà il gioco quindi ci dobbiamo allenare bene bene domani ragazzi vi ricordo pure che ci sarà la live del buon Lelligno sulla sua pagina youtube vediamo se vado anche io in live forse una live speciale vediamo di fare un po' di dissing ah 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 dai andiamo a fare il secondo gol dai no e vabbè no mamma mia ragazzi che è uuu ragazzi mi devo ricordare come si fa la finta quadrato e re 2 vediamo lo facciamo come sempre un bello a fa mocca con la braga ora se andate sull'ultimo mio video c'è stato un commento di uno che poi l'ho cancellato ragazzi se andate sulla mia pagina youtube facebook io pubblico pubblico tutto ragazzi una persona che si è creato e poi glielo voglio lo voglio dire a lui come lo dico a tutti quanti si è creato un account youtube oggi per venirmi a commentare testa di cazzo che non si attra lo sai che io posso andare a vedere quando vi create l'account coglione che non si altro il nome al contrario ragazzi si chiamava Simo Simo non voglio dire altro sei proprio geniale pure come inventi i nomi coglione coglione che non sei altro e che non mi viene a commentare col tuo nome reale testa di cazzo visto io che ci metto nome faccia viso e tutto e visto che stai saluto ma che da bacchino da mamma Konami tramont che non si è alto chi ghiando non sei manco così Konami tramont tramont ha vinto vai vai no ma perché vai Seda con l'Azeda vai vieni e le due te la tolgo coglione vai vai no Nico ma vedete la difesa ragazzi ci sono delle imbarcate pazzesche vabbè mi stai già stare tremendamente sulla punta della capocchia te lo dico bel papà papà ha eseguito ha eseguito un movimento da attaccante di razza ma il passaggio non era da meno tutta l'azione non vuole fischiare una mazza del calcio si ricomincia con un solo gol di scatto questo gol cambia gli equilibri della partita ora l'inerzia della gara tutta la loro attore fammelo vedere il replay un attimo fa la doccia non è falo quello la fischia dai 2 a 1 che ladrata di gol dai dai vieni forza oh ma tommiottoncio fino a fa sei data a FIFA non mi dice niente 2 a 1 gran bel primo tempo 3 gol tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo se ne va oh tiragì da mamma però non l'ha concretizzata e questa è una grande occasione persa ha fatto tutto bene tranne la conclusione pallone che poteva diventare pericoloso dove cazzo vai ma fatti due passaggi decenti ma guardate ma c'è modo di giocare quelli io te la tolgo oh oh eh vabbè prendilo mufta da mamma cucross no cucross no ottima l'azione conclusione però non all'altezza non puoi concedere tutto quello spazio sulla fascia i difensori avrebbero dovuto temporeggiare e chiudere meglio lo spazio sapeva già tutto e anticipa l'avversario va alla ricerca di un compagno davanti ecco si esce no non è fallo vabbè vabbè va vuoi fare di più con qualche altro non com'è da ci prova con un pallone profondo no madonna mia ma come cazzo e fermalo e vi siete imparati a correre qua così in questa maniera dai 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 ragioniamo dai via in testa di minchia vieni ecco ragioniamo oh cazzo immobile pedro occasione ma tu guardi il gol che devo prendere io raga ma devono riprovarci questa potrebbe essere la strada niente raga io non riesco a colpire di testa raga io devo prendere dei rischi è necessario esatto fabio intercetta il pallone dopo una lettura magistrale fai fallo coglione che non si è altra ma che modo gioca qua vediamo come stanno messi vediamo come stanno messi dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica dai ma perché ti togli avanti ma pressa niente raga non si può difendere quest'anno c'è guava vai a chiudere porca puttana in verticale vede lo scatto e cerca la profondità ma dove fuori giù ma secondo te ma c'è boh questo è un passaggio vabbè ma perché cazzo mi sembra aprite di c'è visita mi pare ogni volta che c'è la playstation ma qua guarda è boot sta cazzo da parte niente la devo dare a lui ma prendila madonna ma di no sulla fascia di no sulla fascia e io di no che te la tolgo ho fatto fallo vabbè dai questo è il colmo guarda alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni ma raccoglie un passaggio da venire va via in dribbling cioè guarda guardate ditemi se vuoi è normale che io non posso difendere questa cazzo ma guardate un po' ma è normale che non si può difendere ma dove cazzo la dai pur senza sbilanciarsi troppo il cambio veloce l'hanno eliminato io devo prendere il colmo niente non riesco a ripartire mocca la murta da man c'è ma fu test gol e che cazzo vedete poi c'è un video che stimare io vabbè con un calcio da fermo vabbò buttalo fuori testa di cazzo inappellabile spulso moci e guap al chat proprio la Lazio dovrà affrontare il resto della partita in 10 in qualche modo bisognava fermarlo si sarebbe trovato da solo davanti al portiere mi sembra un po' lontano forse farebbe meglio a cercare qualcuno la barriera la barriera fa il suo mestiere Alonso riceve il passaggio pallone interessante in verticale tripletta del buon lucacone c'è che proprio il portiere dovrà la concentrazione per questo ha sbagliato facciamo un quarto e poi tutte le cose non fa no qua tocca raga ma non era lucacu la palla non è fallo quello va vai a cacare va va vabbè a prendere un bel te caldo andiamo a farci la seconda partita per concludere l'analisi a te invece che partita è sembrata Luca? una partita vivace in cui non sono mancate le occasioni da gol entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari si chiude qui il nostro collegamento un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani grazie a te Fabio buah beh siamo avanti grazie a te andiamo avanti chiedo scusa sto leggendo delle cazzate di uno ragazzi io lo voglio sputtanare non è chi pensate voi ma è un coglione no vabbè dai vabbè andiamo avanti dai quanto lo voglio quanto di singli voglio fare contro questo mamma mia tu sei proprio un coglione mamma mia questo sta frecato proprio vabbè esci di casa fatti una vita esci di casa fatti una vita esci di casa fatti una vita non puoi campare con i video di youtube devo avere cento di uno scritto devi fare miliardi di visualizzazione guardi a cagare vai senza niente ragazzi giochiamo così alla cazzo di cane non voglio perdere tempo vai mamma mia ragazzi mamma mia veramente io l'amebo pes o lo si ama o lo si odia io lo amavo lo amo e l'amero per sempre chiaro mai fifa mai eventuale ufl si lo sbircerò se uscirà vedremo come sarà ma non tradirò mai il mio gioco aspetterò tanto c'ho molto da fare ultimamente eh forse è la cosa più bella beh proviamo questi nuovi giocatori qua bisogna fare 4 gol vediamo se riusciamo a farlo atmosfera magica com'è qua li prendo 4 gol vediamo ma come mai sto giocando solo a 3 tacche ultimamente non l'ho toccata né la squadra né l'impostazione delle tattiche vuole vedere come va ma che va poi cambiamo subito questo va al di cross vabbè va questo è ciuccio e la perderò io questa partita metto un'attacca su perché così non mi sta piacendo prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione prova a darla profonda nello spazio è libero di creare pericolo prova con il tocco basso no così raga ma non mi fa mai il cross da sotter come dico io ah qua gioca l'indie sta giocando per lo zirazio voglio devi fare il gol voglio devi fare il gol non aspettare devi giocare devi segnare devi segnare no raga no 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 non posso non fare 4 gol a questo ci prova con un pallone profondo pericolamente non riesco a tirare questo è un passaggio quantomeno discutibile dove cazzo vai vabbè mamma mia che schifo lo gasto di mano sempre sto schifo di gioco vabbè vai col cross quanto siete prevedibili mamma mia sceglie di andare per via verticali giocantezza punto norma come cazzo posso segnare c'è luca timbanghino lascia che coglione ma prendi la madonna mia ebatti ebatti provo a giocarla in profondità niente non riesco a si ha fiscato il fazio ma vabbè c'è c'è il trequartista vabbè ma sta scherzando giusto aspetta una aspetta una bella si aspetta e non prende la parte capisce tutto interviene con sicurezza tiene sul piano fisico c il suo pallone vede lo scatto e cerca il portiere dice di no ottima la parata il sorpreso il portiere ma lui ha risposto con un intervento d'applausi ma scopo forzatezza partita scusate ma sta bene vabbè andiamo subito così no 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 era in mezzo occhi e saltatori che sono arrivati niente c'è il tiro va sul rimbalzo ci è andato molto vicino beh raga però dai io non cioè vabbè va bene siamo ci zi qua schialza tutta la squadra ma la polpura la casa nel picco la squadra vabbè e segnano il primo gol dell'incontro l'ha messa lì dove il portiere non può arrivare una perla credo che non abbia nemmeno guardato la porta la sentiva ha colpito di fuori ma ho capito che devono segnare in queste partite niente un'attesa assoluta proprio tic tac non esiste più le due fate una ragione ma dove cazzo vai niente qua sulla fascia gliela da lui va bene e continua a giocare così che cazzo ti devo dire boh ma da quell'altra chi cazzo gliela da mamma oh mamma mia raga mamma mia palla filtrante per Cristiano Ronaldo boh vai col cross si va bene grazie allora non hai capito un cazzo proprio ma guarda te lo do prendi il gol da 1 a 1 più occasione conclusione radente al suolo il fisco dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare finiscono così 45 minuti di pace una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto la tua analisi sulla prima frazione Luca brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in careggiata 3 gol per tirare vabbè e nessuno che sta là vabbè consegnando mani giorginio ci prova con un pallone profondo e dai madonna mia ma io guarda cioè vabbè questi giocano così guarda palla a 1 pedalare vabbò ma vogliamo correre attenzione attimo sono di nuovo in parità passo agile tempismo perfetto e conclusione vincente magnifico a volte quando ci si avvicina la porta guardate cosa guarda quello dalla casa sta arrivando guarda quello come si ferma a mette le core guarda due volte guarda non è possibile portier che cazzo di caffala quando ci sono in campo due squadre di questo calibro ecco lo spettacolo Lukaku e il portiere fa il suo dovere ha fatto tutto alla perfezione ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale ma questo tira a cazzo e prenda a culo non riusci ma guarda guarda James ma guarda come cazzo corre vabbè va a fare soltanto eh va bene è un pessimo cliente per qualsiasi difesa l'ha appena dimostrato hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi ma lui si è liberato di prepotenza gran gol Chago Silva eh e passano in vantaggio i rapporti di forza sono chiari al momento guarda Avert guarda come si è fermato guarda ma ditemi voi se è normale sta partita oggi che sta facendo? Melina che leggerezza devono stare più attenti oh vabbè dai dai facciamo fuori qualcuno dai basta ma che schifo ma guarda che schifo ragazzo vabbè non hanno altra scelta devono buttarsi in avanti niente ora dai indietro adesso ballone interessanti in verticale io perdere con questo ma non esiste proprio non esiste proprio non esiste proprio sto cadavere ma non lo attacca avanti avanti Ci sono dei cambi da entrambi i lati. Pallone in profondità per Ziyech. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Sceglie di andare per vie verticali. Grande salvataggio di De Gea. Va rapido sulla respinta. E vaffanculo, vabbè, piqued che è, piqued. Fai a vedere tutto, 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 già da far vedere. Un mancino che è segno, vaffanculo a mamma. Semmi indietro la tralla fa mamma a Michele... Ma perché se ti allunghi non la prendi? Ma guarda un po', io non lo so, ma c'è no... Raga, ma si puttana a me, io non ho... Ma la multa della PS4, bastate, chi ne da merda. Io non dà la cata che la PS5, la dà regala, io non dà la cata. Io non dà la cata, vabbè. Se l'uomo la devi regalare, pezza di merda di Konami. Se ne va, la gioca. Ecco il tiro. No, vabbè, zia, come sei entrato, dai. Sei appena entrato, non mi rompo i coglioni. Sei appena entrato. Ora dovranno anche stare attenti a non perderla. Ma, mamma, ci cosa mi stai a fare fino ad aprire, ma io? Aspettate, tu schifo. Ma... In profondità non va la palla, ragazzi. Ma come... Ma io sto pareggiando con sto cadavre di avversario. manca un gol già raga manca un gol speriamo di farlo ma docci gol a tutte le sol tanti ma docci con la lingua farò vedere farò vedere cresce a quale gli occhi non vuoi far vedere ma docci go ma docci go va tutti in attacca adesso vai da un gol manca ragazze che a me difendere mo vediamo se in due partiti riesco a battere sto cazzo direi su 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 sciamani sciamani no sciamani dalla lukaku ciao ciao vabbè faccio uscire l'amico mio dai lo faccio uscire data in quest'anno i portieri sono più veloci di flash e super raga è inutile o che bel invio no è perché l'indie luca ma non sei un difensore vabbè da raga per un gol devo fare l'altra partita tutti avanti vai tutti avanti o la vola spacca nooo mannaggia la muerte da tanto mannaggia ma perché cazzo fai la finta la coglione mette i tiri guarda non fa bene questo non farne un cazzo delle per non fare di occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore non lo zi è battito no vabbè no è andata puttancia raga da oh non fischio oh 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 ma le ho sei gol mannaggia la morte da tanto mannaggia mannaggia la morte da tanto mannaggia mannaggia la morte da tanto no vabbè da ci vediamo domani nella live ragazzi entrate dai è sempre un piacere lavorare con te fabio arca troia raga quindi ricordatevi nessun aggiornamento a dicembre 6 su 7 ma nessun aggiornamento facciamo domanda parti nessun aggiornamento 09 punto 0.9 punto 2 domani all'area di del ligno e ho abbandonato definitivamente pesi 2021 ciao a tutti ragazzi vi voglio bene ciao banner bianco